Al fine di rendere più efficiente il lavoro degli operatori addetti al servizio di raccolta di carta e cartone presso le utenze commerciali, Acrea richiama l'attenzione degli esercenti a quanto disposto nell'ordinanza sindacale del 20 novembre 2017 in materia di conferimento dei suddetti materiali di scarto. Osservarne i criteri, oltre a evitare sanzioni pecuniarie, contribuisce a migliorare notevolmente il lavoro del personale addetto e l'efficienza del servizio, e naturalmente a rendere più decorosa la città. Ogni informazione in merito è disponibile sul sito istituzionale www.acreaspa.com alla voce Pro Memoria Rifiuti. Utenze non domestiche, esercizi commerciali, attività produttive, eccetera, imballaggi di carta e cartone dovranno essere conferiti separatamente dalle altre tipologie di rifiuti nei giorni da lunedì a venerdì, nella fascia oraria complessa tra le 10 e le 12. Gli imballaggi dovranno essere depositati nelle adiacenze di ogni singolo tenso commerciale, adeguatamente prestati in modo da ridurne il volume ed evitarne la dispersione a causa di vento o altri eventi, ordinati in modo da formare un corpo unico. Inoltre, non devono contenere parti in metallo, carta unta, plastica, a cielo, fanno polistirolo e altri rifiuti o materiali che possano pregiudicarne il riciclaggio. In alternativa, potranno essere conferiti direttamente presso le isole ecologiche di Via Saffo e di Piazzale della Pace da lunedì al sabato dalle 6 alle 18.